Il Tai Chi si basa sull'equilibrio, sull'armonia di forma e spirito. Un uomo d'onore. Non posso usare il Tai Chi per denaro. Tentato dalla gloria. Puoi vedere se sei davvero bravo, Tiger? Corrotto dal potere. Accidela! È davvero una bestia! Il primo film diretto da Keanu Reeves. Gli piace combattere. Devi riflettere con molta attenzione sulla strada che hai intrapreso. Perché hai detto? Perché sono più bravo. Man of Tai Chi. Questa sera alle 21. Sul 20.